Ciao a tutti, ben ritrovati. Prima di tutto buon anno. Non ci siamo visti in questi giorni perché insomma eravamo tutti un po' soprattutto sottoscritto, un po' indaffarati con questi giorni di festa. Spero che avete passato bene il Natale e Capodanno e che avete ovviamente iniziato bene questo 2024. Un nuovo anno, un anno che come iniziato ci ha regalato diverse uscite, uscite soprattutto della Bonelli. Vi farò poi vedere quello che ho acquistato tutto l'insieme nel video che farò fine settimana, però oggi volevo parlarvi dell'ultimo numero che ho letto immediatamente nella giornata di ieri, l'ultimo numero di Zagor, numero 753, La Tanna del Serpente, prezzo 4,90 euro, con questa bellissima cover di Alessandro Piccinelli. Eccolo qui. Bene, veniamo allora ai consueti crediti. Allora, La Tanna del Serpente, soggetto sceneggiatura Moreno Burrattini, disegni Mauro Laurenti, letteri Alessandra Belletti, copertina Alessandro Piccinelli. Allora, facciamo un po' un breve riassunto. Il ritorno a Pleasant Point di Ruth in compagnia del marito Neville, del figlio. Ruth era un'altra delle ragazze di Pleasant Point. Non sapendo quello che era successo, cioè la morte della povera Jenny, fa visita alle vecchie amiche e scopre la terribile notizia. E si ritrova quindi qui, in questo posto, insieme a tutte le altre ragazze e soprattutto Cipo. E Sara, che è la ragazza con quella che poi si è raggiunta insieme a Jenny, a tutte le altre, si è raggiunta insomma per ultima, racconta un po' le loro disavventure. Quindi il passato di Jenny, ma non solo di Jenny, ma anche dell'altra ragazza, Sara, che era insieme a lei. Quindi si ricomincia con il racconto e eravamo rimasti che Sara e Jenny erano riuscite a scappare da questa banda di malfattori, di sfruttatori che sfruttavano queste ragazze in questo locale, il Paradise, e erano uscite a fuggire. Fatto sta che avevano poi incontrato Zagor che l'aveva aiutata e fatto sta che altri uomini di questa banda riescono comunque poi a mettere le mani su queste due ragazze e riportarle al Paradise, pensando che Zagor sia morto. Vengono riportate al Paradise, vengono insomma maltrattate, buttate giù da questa scala che porti in questa cantina, gli viene detto che dovranno stare lì almeno una settimana al buio, senza cibo, gli porteranno solo magari un po' di pane, un po' di acqua e scaraventate giù, imbavagliate e legate. Infatti c'è questa scena che insomma trovo anche un po' esagerata, la povera Jenny viene sbattuta giù da questa scala ben due volte, poverina, e vengono insomma rinchiuse mentre i maffattoni questi qui, questi che erano gli sfruttatori, eccoli qua, decidono che avevano già, il padrone aveva già fatto violenza sulla povera Sara, decide che la prossima a subire la stessa sorte sarà la Jenny, povera Jenny. Quindi questa ragazza poi verrà portata su di sopra nella camera del padrone e poi insomma a quello dal racconto, non vi voglio dire altro, pare che sia condannata a subire la stessa violenza della sua amica Sara. Nel frattempo Zagoro ovviamente non è morto, lo vediamo correre e saltare da un'aliana all'altra, imbattersi in altri componenti di questa banda e mettersi sulle tracce per poter ritrovare queste due ragazze e non solo, perché poi vedremo che quando arriverà al Paradise avrà parecchio da fare. Non voglio dirvi altro perché il racconto è un racconto, diciamo, la trama abbastanza semplice, quindi anche un pochetto scontata, quindi vi lascio il piacere della lettura. Le tavole, i disegni le ho trovate insomma diciamo buone, soprattutto queste tavole qui dove c'è Zagor che salta da una parte, da un ramo all'altro, i dialoghi non sono eccessivi, quindi una lettura snella, veloce. Vi ho già detto un po' troppa violenza nei confronti di queste povere fanciulle che secondo me si è un po' esagerato con la cattiveria di questi sfruttatori, questi delinquenti, che ovviamente poi sono talmente cattivi che sono cattivi poi persino anche tra di loro e poi si vedrà, anzi lo vedrete leggendo questa storia. Zagor, come vi ho già detto, andrà proprio come un mastino dietro a cercare queste ragazze e ovviamente si troverà poi a dover affrontare l'intera banda. Disegni, come vi ho detto, buoni, mi sono piaciuti anche se a volte certe espressioni. Molto belli i disegni, i disegni delle ragazze, davvero disegnati. Volevo farvi vedere, guardate un po', ecco qui. Comunque le ragazze sono disegnate molto bene, con anche i volti, queste ragazze che erano segregate, guardate. Ecco, davvero, molto ma molto belle queste tavole. E facendo, insomma, adesso non voglio spollerare troppo, però parlando sempre di disegni, mi è piaciuta soprattutto questa vignetta dove c'è questo quasi bacio tra Jenny e Zagor che devo dire che questa scena mi è piaciuta abbastanza. Ovviamente poi il finale è abbastanza scontato, quindi tutto finirà per il meglio. Leggetelo perché la storia, come l'altro, è abbastanza piacevole, non impegnativa. Io l'ho letto in un quarto d'ora, quindi molto veloce. E ci fa capire anche, nelle ultime tavole, capirete anche l'atteggiamento di Zagor nei confronti di queste ragazze che fa capire anche il fatto, perché lui, insomma, lui è da solo, vive solo con Cico e quindi ci sarà una battuta, un paio di battute tra lui e queste due ragazze che forse, non lo so, forse si potevano anche risparmiare nella storia. Io l'ho trovato un po', delle battute un po' così, messe lì che non sono piaciute neppure a me pur che ho apprezzato questo racconto. Un racconto buono, ottimo, direi una storia piacevole. Come è stata l'altra, anche mi è piaciuto il fatto che è stata data attenzione come venivano trattate queste ragazze che tante volte vediamo nei film quando ci fanno vedere quei salum dove ci sono queste fanciulle che esercitano il mestiere più antico del mondo. Mentre qua da un'immagine ben più cruda e davvero triste dello sfruttamento che c'era dietro e che purtroppo ci sono delle situazioni. Siamo nel 2024, ci sono delle situazioni che vanno anche al di là, anche peggio di quello che abbiamo letto in questi due numeri. Quindi bravo Burattini che ci ha regalato questa storia, ottima, buona. Quindi chi ha letto l'altro ovviamente leggerà anche questa. Chi voleva leggersi una storia un po' diversa, senza doversi andare a cercare dei riferimenti ad altri numeri, con questi due numeri, ha una storia abbastanza leggera, tranquilla, veloce, senza spaccarsi la testa. Ovviamente poi non poteva essere troppo lunga perché dovevano essere terminati in questi due numeri perché io ho molto voglia di vedere il ritorno del mio nemico di Zagor preferito, cioè il ritorno di Supermai, che dal febbraio ci terrà compagnia per ben cinque numeri. Quindi cinque numeri, se non qualcosina in più. Leggetevi la lettera di Burattini che ci dirà qualcosina riguardo a questa nuova serie di Supermai con questa bellissima cover che vi ho fatto vedere, che ci terrà compagnia da febbraio fino all'inizio dell'estate. Quindi felicissimo che torna questo eroe che mancava da parecchi anni. Supermai che vi ricordo, che è un personaggio, io sento tanti che è antipatico, io non capisco per me, forse dei nemici che ha avuto Zagor, Supermai è quello più buono, simpatico, anche perché lui usa le stesse armi che usa Zagor, la forza fisica, la sua preparazione atletica. Quindi è un personaggio che mi piacerebbe magari che diventasse, non poi un nemico, ma un qualcosa che potrebbe diventare come un alleato a volte. Voi immaginate se Zagor ovesse un personaggio come Supermai che alleato e non ce ne sarebbe per nessuno. Quindi staremo a vedere, ho molto hype per questa nuova serie di Supermai. Bene, questo era tutto, mi raccomando, correte in edicola ad acquistare Zagor, il supereroe italiano, come dice, come ha detto il grande Giovanni Dioguardi, che saluto, e speriamo bene che Zagor in questa prossima serie con Supermai ci regali delle buone letture e ci faccia passare almeno cinque mesi di sicuro, cinque mesi del 2024, con il grande ritorno di Supermai, mi raccomando. Vi saluto, vi do appuntamento a prossimi video qui nel mio canale, alla prossima, ciao!